Hi everybody youtube, io sono Anachim e bentornate a questo nuovo video Oggi sto facendo questo video anche perchè il mio computer sta avendo parecchi problemi Adesso vi faccio vedere subito Ho visto Gesù per due secondi Guardate, riesco a farvelo vedere Cioè ricerca problemi, è tutta mattina È tutta mattina che fa così ragazzi, non so che cosa abbia Sinceramente, eccolo qua Madonna Ecco Cioè in poche parole Se è bloccato, cioè non va più avanti Quindi tutti i video che ci sono dentro questo computer non verranno caricati Verrà caricato solo questo per informazione vostra Cercherò di farlo sistemare il prima possibile Ragazzi intanto guardatevi i video precedenti I video precedenti Quindi adesso non ci sarà il video precedente Guardatevi le playlist E consigliatemi altri giochi In questi giorni, ragazzi, questa settimana non caricherò niente Magari qualche video, magari in macchina con i miei amici Non lo so Veramente non lo so, sono in crisi E ragazzi, mi spiace per questa cosa qua, però è così Non ci posso fare niente Niente, per questo video è tutto Se vi è piaciuto il video, come solito vi invito a lasciare un bel mi piace ragazzi Anche per sostenere il mio computer del corso Un commento e un'iscrizione Pagina di Facebook sempre nel link in descrizione Perché faccio tutto tramite cellulare Mi state vedendo Adesso vi faccio vedere Hi Basta Quindi ragazzi Sostenete tutte le serie, ragazzi Comprese le serie di Minecraft Lasciate stare, ragazzi Minecraft non mi parte più E anche questa cosa mi dispiace Quindi Per Five Nights at Fuckboy Che ho già il video pronto Non ve l'ha caricato purtroppo Quando vedrete il video caricarsi Significa che ho risolto tutto Quindi ragazzi Mi piace, commento e iscrizione E noi ci vediamo nel prossimo video Hi bro Woo